signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale due settimane fa prima lo speciale abbiamo cominciato a parlare della differenza tra plot story e lore questa settimana andiamo avanti perché bisogna parlare di qualcosa che è molto importante ed è un problema che affligge molte quest in realtà principalmente per colpa dello smisurato ego che la maggior parte dei master ha e che viene alimentato dal fatto di essere costantemente al centro dell'attenzione in un gioco ovvero sia il fatto che la lore non può mai andare a sostituire il plot avevamo già fatto un discorso simile un paio di anni fa quando avevamo affrontato l'argomento delle descrizioni con un video chiamato la descrizione non è narrazione diciamo che questo è quello che viene oltre se quello era il problema che si verifica al livello granulare al livello base del gioco questo è quello che avviene sui massimi sistemi vi devo avvisare che questo video non l'ho scriptato quindi sarà incoerente pesante da seguire e molto probabilmente perderà velocemente un filologico cioè esattamente come tutti gli altri video ma questo mi darà molti più problemi in montaggio perché questo è un rant iniziamo chiarendo un concetto fondamentale questa è una delle regole scritte nella pietra la lore non può sostituire il plot cosa vuol dire questo una storia qualunque tipo di storia che sia un gioco di ruolo che sia un libro che sia un film si basa principalmente sul suo plot sulla sua trama se volete dirlo in italiano quello che i giocatori sono venuti a fare il motivo che gli ha spinti al tavolo è quello di vivere una storia nel caso del gioco di ruolo una storia interattiva una storia collaborativa ma sempre una storia è una storia ha bisogno di una trama una storia è composta da una serie di eventi collegati logicamente tra di loro questo è il plot l'abbiamo visto nel video di due settimane fa la lore serve come elemento di contorno serve per dare profondità al mondo serve per rendere verosimile l'ambiente e serve anche per catturare l'attenzione dei giocatori su alcuni dettagli o far viaggiare la fantasia farli sentire all'interno di un mondo coerente lo scopo e la lore è quello di dare l'impressione che il mondo di gioco non esiste intorno ai giocatori ma che si tratti di un posto reale che esisteva prima continuerà a esistere dopo e si estende tutto intorno ai giocatori anche se per loro la cosa non è immediatamente evidente dopo tutto questo è il modo in cui funziona anche il mondo reale quando voi camminate per le strade della vostra città incrociate delle persone vedete le vetrine di negozi vedete case ognuna di quelle persone ognuna di quelle vetrine ognuna di quelle case ha una sua storia alle spalle le insegne dei negozi riportano i nomi ogni negozio avrà una storia chi è il proprietario chi era il proprietario prima di lui eventi che sono successi quando incontrate i vostri amici vi racconteranno aspetti della loro vita che magari non sono immediatamente utili a quello che sta succedendo al tavolo da gioco siete insieme ad altre persone queste persone hanno una loro storia hanno fratelli hanno ragazze hanno ragazzi hanno parenti tutto quello che volete ma queste cose non sono rilevanti al fatto che in quel momento quella persona sta giocando il ladro e quest'altra sta giocando il corporativo questo è esattamente quello che la lore dovrebbe andare a simulare all'interno del mondo di gioco condiviso cioè dare l'impressione che al di là di quello che sia immediatamente evidente ci sia molto altro che i giocatori non sanno ovviamente per fare in modo che questo accada il mondo di gioco deve essere dettagliato che sia un'ambientazione presa da un manuale già uscito ispirata a qualche altro tipo di opera letteraria o anche un lavoro originale del master che si è messo a fare war building e ha costruito da solo un'intera ambientazione conta poco lo scopo dell'ambientazione è far sentire i giocatori integrati in questo ambiente più grosso il problema è che molti master moltissimi master fanno il master proprio perché gli piace questo aspetto del gioco gli piace l'aspetto della storia del mondo e gli piace il war building io stesso trago grande soddisfazione dallo scrivere un'ambientazione renderla coerente inserire tutti i dettagli particolari ideare popoli dagli costumi tradizioni aree geografiche tutto quello che è in questo momento sto anche lavorando con alcuni di voi iscritti su migliorare alcune delle vostre ambientazioni e la cosa mi dà grande soddisfazione per quanto un master però possa essere appassionato di questo e ritenere che la lore che ha creato per il mondo sia interessante sia approfondita tratti temi quello che è non deve mai correre il rischio di innamorarsi della propria lore perché se no le sessioni di gioco passano dall'essere un racconto interattivo all'essere semplicemente una specie di spettacolo di cabaret in cui il master parla racconta e spiega all'infinito aspetti anche triviali della propria ambientazione senza che però questo abbia un minimo risvolto di trama se la storia che dovete narrare parla di quattro eroi che vanno a uccidere il signore delle mummie all'interno di un tempio abbandonato la lore che viene presentata durante la partita dovrebbe essere limitata a giustificare perché lì c'è un tempio perché è stato abbandonato chi è il signore delle mummie e perché è andato a vivere lì dentro magari inserendo anche qualche elemento di contorno sulla zona del tempio su chi ha dato questa missione ai giocatori o perché sia importante mandare via da lì il signore delle mummie e perché non possa essere lasciato in pace dopo quello basta non serve informare i giocatori su tutto quello che riguarda il mondo per poter raccontare questa storia e non serve neanche avere più di tanti dettagli su ogni singolo elemento qual è il retroscena nel signore delle mummie è importante qual è la motivazione che ha spinto a stare lì e qual è la motivazione che spinge gli eroi a scacciarlo quale sia il genere musicale preferito dal signore delle mummie e il fatto che lui quando era elementari veniva picchiato da un altro ragazzino non è importante ai fini della storia molto probabilmente non è importante per niente non è qualcosa di funzionale alla quest e se non è funzionale alla quest dovrebbe esserne tenuto fuori subissare i giocatori con informazioni che riguardano l'ambientazione non fa altro che fagli perdere il focus su quello che sta succedendo perché loro dovrebbero preoccuparsi appunto del plot degli eventi che stanno vivendo e della connessione tra gli eventi tra i loro non del fatto che ci sia un'antica leggenda che dall'altra parte del mondo esista un popolo dove i panini mangiano le persone o quello che è e in secondo luogo buttare costantemente informazioni addosso ai giocatori rischia proprio di far perdere tempo durante la partita se ogni volta che deve essere introdotto qualcosa se per introdurre l'antico tempio il master passa mezz'ora a raccontare tutta la storia passata del tempio quali riti venivano celebrati chi l'ha costruito e l'intera struttura sociale della civiltà perduta che edificava templi questo vuol dire mezz'ora di gioco in meno che i giocatori avrebbero potuto utilizzare per sviscerare meglio la trama della storia attuale far crescere i loro personaggi o anche solo riportare fatti che riguardano i loro personaggi e la situazione attuale quando vi approcciate alla scrittura della lore per una determinata quest non fate l'auto inganno di pensare che lo stiate facendo per i giocatori normalmente se non i dettagli più generali la lore ai giocatori non serve una volta che c'è quel minimo che permette ai giocatori di sentirsi parte di un'ambientazione coerente tutto il resto è inutile come per voi che camminate lungo la città è inutile sapere i dettagli e la vita personale di ogni singola persona che incontrate o non vi serve a nulla sapere che il giocatore del ladro ha un fratello e il suo fratello ha un negozio in centro se a voi piace il world building buon per voi scrivete tutto quello che vi viene in mente perché potrebbe sempre tornarvi utile ma non fingete di farlo per i giocatori lo fate per voi lo lo fate per migliorare la vostra ambientazione e lo fate per inserire elementi che potrebbero tornare utili in seguito ma non ora e quegli elementi non dovrebbero essere dati ai giocatori durante la quest se non quando è effettivamente utile al plot ora può anche darsi e io ne conosco che ci siano anche dei giocatori che sono interessati allora qui effettivamente gli piace scavare nel mondo di gioco sapere racconti sapere aneddoti quelli che si comprano i manuali d'ambientazione e leggono tutte le storie e non leggono le regole o quelli che vorrebbero parlare per ore con i master con i dettagli delle varie cose sapere tutte le relazioni dei vari elementi del mondo di gioco tra i loro buono buon per loro ma questo deve essere tenuto fuori dalla quest trovatevi in un altro momento e parlate tra di voi oppure se avete proprio scritto tutta l'ambientazione fate stampatela fate un libricino consegnatela ai giocatori e che in modo che chi è interessato se la possa leggere a casa sua nel letto prima di andare a dormire ovviamente per nel letto prima di andare a dormire vuol dire sul cesso la mattina però che se la possano leggere a parte in un momento in cui questo non faccia perdere tempo al racconto vero e proprio durante la quest gli unici elementi che devono essere presentati sono quelli effettivamente rilevanti per la quest né di più né di meno diciamo che per questo video è tutto ho rantato fin troppo come al solito vi ricordo di passare su facebook perché sto organizzando per luca per chi volesse incontrarsi lì adesso sto raccogliendo sto raccogliendo tutte le varie i nomi tutte le varie cose quindi non so ancora dirvi bene metto tutti gli aggiornamenti su facebook quindi se non l'avete fatto chiedetemi l'amicizia lì per questo video dicevo tutto fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi a riguardo se vi è mai successo di avere un master che abbia interrotto la sessione per raccontare storie che non c'entravano nulla o se voi stessi siete quel master o se al contrario non siete d'accordo e siete di quelli a cui gli piace passare un'ora a parlare di fatti in reali di mondi in reali invece che tirare dadi ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per crescere il canale schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao